Nelle vie più antiche della città di Torino, Dario Hartwig ha cominciato la sua formazione professionale. Da anni Dario accosta la maestosità alla semplicità, l'eccezione al rispetto del passato, il lusso alla tradizione. È questa passione che l'ha portato dai sogni dell'infanzia alla professionalità delle migliori scuole di pasticceria. L'unione di discipline come il design e la cucina, la moda e la pasticceria convergono nel suo lavoro in un sentimento capace di coniugare l'alta formazione professionale con l'uso di ingredienti di qualità attentamente selezionati. Solo così Hartwig rende possibile un connubio straordinario. La tipicità dei prodotti italiani è l'originalità di creazioni sempre nuove, moderne e preziose. Punto di contatto tra questa attenzione alle radici e l'occhio al futuro è la qualità, la sostanza, la bontà genuina delle sue creazioni, esportate in tutti i paesi del mondo. È un unico e inconfondibile marchio distintivo. L'eccellenza.